Iniziamo però subito questa lunga serata e non posso non chiamare la mia compagna di viaggi da cinque anni, l'avete vista anche nella nostra sigla, quindi accogliamo con un applauso Veronica! Grazie, come si è finita? Sì, mi sono chiamato, mi sono chiamato, mi sono chiamato, mi sono chiamato, mi sono chiamato e mi sono chiamato, mi sono chiamato, mi sono chiamato, mi sono chiamato, mi sono chiamato Veronica, iniziamo questa serata, parte un nuovo note di Natale per questa quinta edizione i ragazzi hanno voluto rendere omaggio a un programma famosissimo che sicuramente avrete seguito su Rai1, tale quale show, i nostri ragazzi erano appassionati di questo programma e ogni venerdì sera eravamo lì su Facebook a commentare le varie esibizioni, io in particolare ero particolarmente affezionata a questo programma, appunto i nostri ragazzi presenteranno dei classici della tradizione natalizia e non solo in salsa tale quale e ovviamente non poteva mancare un ospite d'eccellenza da tale e quale show, il nostro amico, il nostro non solo la grande ospite di tale e quale show ma anche il nostro amico che ormai ci accompagna da tre lunghi anni, Piero Massimo Macchini e la bellissima, vi facciamo un applauso a Piero Massimo Macchini e la bellissima naturalmente Roberta da Russo, iniziamo subito? Io direi di iniziare subito perché so che ci sono due ragazze ad aspettarti dietro, quindi vado, vado a inaugurare la stanza delle trasformazioni. Sì, vai ancora nella stanza delle trasformazioni, adesso lasciamo arrivare Anthony e ci colleghiamo subito, vediamo se è pronto il collegamento. Bentornate Elena e Sara, nuovo anno qui a Notte di Natale, quest'anno cosa avete deciso di proporci, peraltro in bocca al lupo perché rompete voi insomma il ghiaccio di questa serata? When You Believe di Mariah Carey e Whitney Houston. Come mai avete scelto questo brano ragazze? Perché ha un significato profondo e parla di fede, dice che se tu hai fede e ci credi veramente i miracoli possono avvenire. Allora ne rivediamo un frammento in cui Whitney Houston e Mariah Carey a Parla di di Mariah Carey e A Parla di Gesù ro 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 Insomma, un impegno arduo, pronte ragazze? Prontissime! Io saluto Sara Magna Massa e Elena Agostinelli. Ciao! E diamo il benvenuto a Mariah Carey e Whitney Houston. Con When You Believe, le grandissime Mariah Carey e Whitney Houston. Con When You Believe, le grandissime Mariah Carey e Whitney Houston. Death can be miracle when you believe, and I hope it's real, it's hard to heal. One miracle you cannot achieve, when you believe, somehow you believe. One miracle you cannot achieve, you will believe, you will when you believe, and I hope it's real! In this n't if i believe, where they are so often, and lose it all, and hope seems like, the sun and my birth just rephrase. No, no, no. 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 No, no, no.